Ben ritrovati amici del centro meteo italiano. Alta pressione in rimonta sull'Italia con solo residui fenomeni. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per martedì 14 dicembre. Locali precipitazioni al mattino tra Molise, Campania e Basilicata con neve oltre i 1200 metri. Sole prevalente altrove salvo qualche foschia sulla Valpadana. Al pomeriggio nuvolosità medio alta in transito sulle regioni del nord ma con tempo asciutto. Ampi spazi di sereno altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvosità alta in transito alternata ad ampie schiarite. Foschie o banchi di nebbia informazione sulla pianura padana. Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo italiano.